in questo video voglio far vedere come risolvere l'esercizio della retta di regressione attraverso l'utilizzo della calcolatrice sharp il mio modello è ELW506X però vanno bene qualsiasi che abbia più o meno questa impostazione accendiamo la calcolatrice ed entriamo nel programma schiaccio il tasto mode il programma è il numero 1 statistiche schiaccio ancora 1 line che sta per linear mi basterà soltanto inserire i dati a coppie quindi prima la x e poi la y per ogni osservazione prima osservazione 10 100 quindi 10 schiaccio il tasto x y mi compare una virgola sul display quindi vuol dire che separa x da y e poi 100 data ecco questa è un'operazione che devo ripetere per ogni osservazione mi basterà fare 15 x y 120 data 20 x y 170 data 25 x y 200 data infine 35 x y 210 data ora ogni volta che inserisco un osservazione il display mi fa comparire dataset uguale al numero di osservazione che ho inserito se per esempio schiaccio il tasto on e quindi cancello tutto lui ha tenuto in memoria queste osservazioni e io posso andare a controllarle attraverso i pulsanti dei cursori in questa maniera posso scorrere tutti i dataset e controllare se ho fatto tutto giusto perché se avessi sbagliate mi fermo dove ho sbagliato ad inserire il numero e vado a riscrivere il numero corretto rischiacciando data e me lo va a sostituire qui provo a fare una prova fittizia quindi al posto di 210 ci metto 6 se schiaccio data lui mi ha sostituito il numero 210 con il 6 adesso glielo vado a rimettere altrimenti l'esercizio non mi viene corretto quindi 210 data partiamo quindi con le prime sommatorie tutti i dati vengono richiamati attraverso questo tasto rcl che si chiama appunto recall richiamo e siccome è azzurro va a richiamare tutti i tasti azzurri nella parte bassa della calcolatrice le prime due informazioni che ci servono sono media di x e media di y recall sommatoria di x che la trovo qua 105 recall sommatoria di y che la trovo qua 800 scrivo sul foglio questi due valori per svolgere la media devo fare queste sommatorie diviso n pertanto vado a richiamare n che però so già essere 5 perché ho inserito 5 osservazioni scrivo le varie sommatorie diviso n poi il calcolo della media lo ottengo schiacciando rcl x medio quello qua 21 rcl y medio 160 ora ho bisogno delle varianze per le varianze necessito della sommatoria delle x al quadrato e delle y al quadrato pertanto rcl sommatoria delle x al quadrato 2575 rcl sommatoria delle y al quadrato 137.400 anche queste le scrivo sul foglio per svolgere la formula della varianza devo fare sommatoria delle x al quadrato diviso n meno la media di x al quadrato e stessa roba per le y per andare ad ottenere la varianza varianza che la calcolatrice mi dà facendo recall sigma x che non è la varianza ma è lo scarto quadratico medio chiaccio il tasto x al quadrato quindi sigma quadro di x uguale ed eccolo qua 74 la varianza di x stessa operazione la faccio per y recall sigma y x al quadrato uguale 1880 ultimo indice che devo trovare in questa prima parte è la covarianza sfortunatamente però non c'è questo tasto all'interno della calcolatrice per cui faccio saltare fuori il valore attraverso gli indici che ho trovato precedentemente la covarianza è data da momento misto meno moltiplicazione delle due medie il momento misto è dato da recall sommatoria delle x y che trovo qua quindi 18.550 diviso n recall n meno la moltiplicazione appunto delle due medie quindi recall x medio per recall y medio ecco sul display mi compare la formula della covarianza perché io sono andato a richiamare i quattro valori che mi servono schiaccio uguale ed ecco fatto 350 il valore della covarianza ora che abbiamo ottenuto i nostri valori intermedi che ci servono per calcolare i parametri della retta di regressione possiamo andare a richiamare gli stessi la retta di regressione è data dal parametro b che è il coefficiente angolare dal parametro a che è l'interceta b è dato dalla covarianza fratto la varianza di x quindi questi due valori li ho già trovati li scrivo sul foglio svolgo la formula però li vado a richiamare con il tasto della calcolatrice che è recall b 4,73 stessa cosa per il parametro a che è dato da la media di y meno b che ho appena trovato per la media di x lo scrivo sul foglio però lo richiamo attraverso il tasto recall a 60,67 ecco è molto facile quindi trovare i parametri con la calcolatrice perché una volta inserito i dati devo solo richiamare i tasti adeguati ci sono poi altre cose che ci chiedono durante un esame universitario per esempio il coefficiente di correlazione lineare ed anche l'indice di bontà di adattamento recall r 0,9383 ecco questo è il coefficiente di correlazione lineare di Pearson se volessi il suo quadrato, l'indice di bontà di adattamento schiaccio semplicemente l'x al quadrato mi compare sul display r quadro uguale 0,88 ma questa calcolatrice contiene un sacco di informazioni utili per esempio il calcolo di un valore teorico prendiamo come esempio il numero 22 cioè vogliamo sostituire all'interno della retta al posto della x il numero 22 e vedere qual è il numero della y schiaccio 22 poi dovrò andare ad attivare questo tasto qua in arancione dove c'è scritto y primo siccome è arancione non lo attivo più con il tasto r cl che era azzurro ma con il tasto seconda funzione che è in arancione quindi schiaccio seconda funzione schiaccio questo stesso tasto y primo che mi compare lì e questo significa che è il valore teorico della retta di regressione con la x uguale a 22 risultato 164,7297 alla fine se voglio ritornare nella posizione di partenza devo cancellare tutti i dati devo schiacciare seconda funzione CA se adesso provo a rischiacciare i cursori non succede niente perché mi ha cancellato tutto e se voglio ritornare nella modalità di partenza rischiaccio mode e torno in normal mode dopo tanti anni di insegnamento posso dire che gli studenti si trovano soddisfatto ad utilizzare questo programma della calcolatrice sia in termini di tempo perché ne risparmiano molto sia in termini di precisione dei calcoli perché ovviamente glieli fa la calcolatrice e non si devono preoccupare di farli loro in conclusione l'ultima cosa che mi rimane da dire è un bel in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti